La Camera di Commercio Riviere di Liguria e Rotary Club della Spezia organizzano insieme un corso di formazione per l'avvio d'impresa, in sintesi come si passa dall'idea alla pratica. È un corso che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno presso la Camera di Commercio e vedrà come insegnanti dei noti professionisti della nostra città. È un corso che si articola su 24 ore dove con più moduli cercheremo di dare quegli strumenti di base che possano consentirgli di non andare incontro ai successi e cogliere invece tutte le opportunità che la propria idea, la propria iniziativa potrebbe raccogliere. L'obiettivo è mettere chi vuole aprire un'impresa nelle condizioni di conoscere i rischi e i vantaggi di questa scelta. Diciamo che la volontà non è certo quella poi di porre limiti, ma semplicemente di avere coscienza e conoscenza di quelle che sono le necessità per poter mettere a terra una propria idea, confrontarsi con quello che è il mercato, le opportunità che ci possono essere, ma anche le difficoltà nelle relazioni, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e dal punto di vista legale e fiscale. Gli insegnanti di questo corso saranno anche professionisti del Rotary Club come l'avvocato Virginio Angelini, l'ingegnere Fabrizio Ferrari ed altri ancora. Abbiamo avuto recentemente anche l'adesione dell'ingegnere Garibotti, che è presidente di Trilium, è amministratore delegato, quindi persone che sono nel mondo dell'imprenditoria e delle grandi imprese preparate per trasferire anche informazioni a chi fa piccola impresa, ma soprattutto trasferire entusiasmo, volontà e una certa attenzione. Tutti gli anni sono circa 1200 le società che si affacciano nel mondo dell'imprenditoria nella nostra provincia, ma ahimè il 30% poi si perde tra cavilli burocratici e difficoltà di ogni genere. Quello che deve passare è il messaggio culturale. L'idea di mettere in piedi corsi di formazione deve essere uno stimolo anche per i giovani che vuol fare impresa a dire studiate, approfondite, documentatevi, perché solo in questo modo si può avere un successo o una riuscita positiva come tutti ovviamente si aspettano.